Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawa, Bahashem Yahawaschai, Bahashem Ruqa Qadash. E quello che ho detto è tutti i lodi al Padre Yahawa, Bahashem vuol dire nel nome di suo figlio Yahawaschai e nel nome dello Spirito Santo che è l'Aruqa Qadash. E questa lingua è l'antica ebraica, l'ebraico antico, perdonatemi. E voglio dare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. E saluti e pace agli eletti della Casa di Israele, a coloro che stanno lavorando nella vigna che è questo mondo in questi ultimi giorni e a coloro che con sincerità cercano questa verità. Shalom. Questa lezione sarà basata su un documento storico trovato che si chiama la Shekta Letter, ok? E si trova dunque in Cambridge, Università di Cambridge, ok? Il museo dell'Università di Cambridge. Che cos'è questa lettra? È una lettra trovata in Cairo, Egitto, nel 1898. E prima di entrare al merito voglio leggervi qui che questa lettra si tratta di un popolo che si chiama i Kasari, ok? Un popolo che si chiamavano i Kasari. E questo popolo vivevano nelle montagne di Caucasus, ok? Era un popolo ben potente a quell'epoca, ok? E i storici sanno di questa storia qui ma impediscono a tanti di sapere la vera storia di questa gente qui. Non insegnano nemmeno, non fa parte della storia. Perché questa storia è la storia di così chiamati popolo ebrei, così chiamati ebrei, così chiamati giudei, ok? Le famiglie potente del mondo, questa famiglia qui che sono conosciuti come gli ebrei, no? La famiglia della Rothschild, ok? La famiglia della Rockefeller, Isoro, ok? E Robert Kagan. E questa famiglia è la famiglia che governa il mondo. Dunque dopo andiamo a tornare a questi. E vi faccio vedere dove è. Qui nel libro di Genesi, capitolo 36 e versetto 12 dice Etimna era una concubina del figlio di Eliphaz Esau. Perciò Eliphaz è un figlio di Esau. E sapete, ho già fatto la storia riguardo Esau. Esau che è il fratello gemello di Giacobbe che è diventato la stipe malvagia che è sempre lui nella rincarnazione precedente che era Caino che ha ucciso il suo fratello Abele e prima di essere Caino si è conosciuto come il popolo del serpente. Infatti lo stesso serpente che ha ingannato Eva nel giardino di Eden, ok? Non era un serpente era un popolo conosciuto come il popolo del serpente era un uomo, ok? Poi dopo è venuto rincarnito come Caino poi è rincarnito di nuovo come Esau. Esau ha avuto un figlio che si chiamava Eliphaz Eliphaz è la testa dei suoi figli è il primo Eliphaz ha avuto Amalek Ora andiamo a vedere qualcosa che ho visto che ho tenuto importante è questo figlio che ha avuto Eliphaz Andiamo a vedere il significato di Eliphaz Ok? Il significato di Eliphaz è Il mio Dio è oro Ok? E Eliphaz dunque Eliphaz dunque ha avuto Eliphaz ha avuto Amalek E ho fatto una lezione profonda su questa stipe Amalek che Yehawo B'Hashem Yehaw Asha'i volendo Lascerò un link sotto Ok? Per chi ha interesse di vedere che è la storia chi è Alessandro Magno mi sa non mi ricordo dunque Lascerò un link sotto la descrizione di questo video E' molto importante perché qui hanno trovato questa lettra Ok? In Cairo Queste lettere parlava proprio dei figli di Amalek chi sono sono delle lettere vere sono depositate nel Cambridge adesso e sono una collezione di carte Ok? Che corrispondono da 950 dopo la morte dell'unto Yehaw Asha'i colui che il mondo dell'ignoranza chiama Gesù Ok? E questa lettra diciamo ha parlato di diciamo del regno dei casari Ok? Come sono come si sono convertiti a giudaismo Ok? Sapete che il giudaismo è la religione del popolo di quella gente che vive in Gerusalemme oggi che infatti le scritture dicono che non sono i veri ebrei ma sono la sinagoga di Satana si trova nel libro di Apocalisse capitolo 2 Ok? E loro hanno la religione che seguono che è si chiama giudaismo Ok? Il giudaismo non ha nulla a che fare con le scritture Ok? Hanno preso un po' di cose dalle scritture e hanno preso l'identità dei veri figli d'Israele che sono i così chiamati negri i nativi americani e i latini Ok? E i figli d'Israele sono sparsi dappertutto Ok? I mori hanno governato in Europa per più di mille anni circa diciamo circa mille anni e hanno avuto generazioni di mori che sono diventati più o meno come i caucasi Per capirne di più basta tornare a vedere i video che ho fatto in passato chi sono i veri santi Ok? Allora andiamo avanti Questo documento che hanno trovato in Cairo rivela dei segreti che non vogliono che il mondo venga a sapere perché questo documento rivela che l'impero dei casari Ok? Erano discendenti dei figli di Amalek Erano discendenti dei figli di Amalek Ok? E dopo sono stati sono stati diciamo sono stati come non mi viene la parola hanno avuto una guerra contro contro i così chiamati russi di oggi Ok? Che in quei in quei tempi si chiamavano i Kievian Russi Ok? E sono stati distrutti nel 969 e sono emigrati emigrati in Europa Ok? E si conoscevano come gli Askenazi e i Gipsi Ok? Si conoscevano come gli Askenazi e i Gipsi Infatti è da là che si è nato i Nazi Ok? Infatti se conoscete bene la storia anche come si chiama Hitler era un Nazi Ok? Hitler era un Ebreo e così chiamato Ebreo Ok? Perciò tutto quello che hanno fatto hanno falsificato la storia per far sembrare loro il vero popolo e come sappiamo i diavoli raccontano e viene a rubare lottare e raccontare bugie ed è quello che hanno fatto in quella seconda guerra mondiale che hanno detto gli ebrei chissà cosa hanno cercato di prendere l'identità dei veri ebrei Ok? E a coloro che riceveranno questo messaggio lo riceveranno a coloro che non sono destinati a riceverlo e non saprei come come spiegare perché è lo spirito che fa capire questa verità e questa lettra infatti se venite su internet e se scrivete le scelte lettere e vedete che in Wikipedia non parlano proprio del contenuto della lettra proprio non vanno a profondità ok? cercano di usare i termini infatti qui è tutto lavato ok? cercano di non andare troppo per far svegliare la gente e poi se venite qui alla traduzione in italiano vedete che è disponibile solamente in poche poche lingue lingue che sono poche parlate infatti se andate scrivete italiano non c'è perché stanno nascondendo questa verità dal popolo dunque non c'è nulla fatto nel buio che non verrà a luce ed è quello che sta facendo i padri i figli di Amalek questo è un documento che porta la prova porta fuori la prova ok che sono i figli di Amalek loro erano un impero un popolo che si chiamavano come i Khazari ok e vivevano nel caucaso nelle montagne di caucaso che saranno zone così conosciute oggi come la Russia ok ecco perché anche la Russia dunque sono i figli di Esau ok e dunque sono di un'altra linea sono di Gomera ok comunque sono i figli di Esau ed ecco perché non vanno tutti d'accordo questi figli di Esau ok e cosa altro avevo da condividere si se guardate in internet vedete che è molto limitato che cosa hanno fatto questo è Apocalisse 13 Apocalisse 13 che dice leggo da allora leggo da uno infatti devo fare una lezione su questo capitolo qui sulle serie del libro di Apocalisse ma qui volevo farvi vedere qualcosa e dice e vide salire da mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste e sulle corna dieci diademi e sulla testa nomi di bestemmia e la bestia che io vidi era simile a un leopardo e i suoi piedi erano come di orso sta parlando di Alessandro Magno e la sua bocca come bocca di leone e il dragone lo diede la propria potenza questo dragone sta parlando dell'antico romano ok e il proprio trone una delle sue teste come ferita a morte ok e questa ferita sta parlando di quando hanno perso il regno che era il regno romano perché gli ultimi a governare ok sul regno romano durante i tempi medioevo così chiamati medioevo erano i mori i mori avevano preso controllo questi mori sono i veri israeliti è il momento di cui dicono che conoscono poco della storia vedete come raccontano un sacco di bugie per nascondervi la verità questa gente riescono a dirvi come è formato tutto per esempio riescono a dirvi che cosa mangiava il dinosaurio il dinosauro bilioni triliari di anni fa ma non sanno nemmeno dirvi cosa è successo una miliare mille anni fa anche meno di mille anni fa non vi sanno dire e vedete che stanno raccontando un sacco di bugia e io vedi una delle sue test come ferita a morte e la sua piaga mortale fu sanata infatti ha ripreso era il tempo della rinascita ok in inglese si chiama il tempo di renaissance anche in francese e questo tempo sono rivenuti in potere ok questi figli dei malvagi e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono i dragone perché aveva dato i poteri alla bestia e adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei ok e questo sta parlando non altro di quando sono andati in potere hanno cominciato a fare guerre con diversi paesi hanno conquistato e bla bla e c'era la seconda guerra mondiale che avevano scoperto questa tecnologia di fare le bombe infatti ha fatto meravigliare il mondo e sono rimasti tutti zitti davanti a loro avevano paura e questo sta parlando comunque dell'America anche perché America è venuto fuori dall'Europa ok che alla fine America e Europa sono le stesse cose ok e dice e fu data una bocca che proferiva parole arroganti bestemmie e le fu data potesta di agire per 42 mesi ed si apre la bocca per bestemmiare contro i poteri per bestemmiare il suo nome e il suo tebanacolo e quelli che abitano nel cielo fatti è quello che hanno fatto sono andati in potere hanno cambiato la più grande bestemmia era quella di cambiare l'immagine del padre e mettere la loro immagine l'immagine di un assassino un pedofilo un diavolo che era la prima bestemmia poi cambiare nome darvi un nome falso Jesus e poi e poi cominciare a cambiare le leggi che le scritture dicono di fare una cosa e loro hanno cominciato a cambiare le leggi per fare tutto altro che è contrario un esempio è quello di far sposare un uomo e un uomo e una donna con un'altra donna che è un abominio nelle scritture dunque dovrei fare una lezione su questo capitolo volendo questo era solamente per darvi un attimo un attimo una piccola storia di quello che si farò poi e faccio un riassunto queste lettere di Schekta le lettere di Schekta portano dietro al 915 prima di dopo la morte di Hawashai ok e questa lettra è stata trovata in Cairo ok nel 1898 e questa lettra porta fuori la verità che i figli di Amalek che sono i figli di Esau che sono la stirpe marvagia ok hanno avuto un regno sulle montagne di caucaso infatti si chiamano i caucaso perché vengono dalle montagne di caucaso ok erano i casari e sono stati cacciati fuori dai russi che sono i così chiamati russi oggi sono andati verso in Europa e hanno preso il controllo ok e questa lettra porta fuori proprio come si sono convertiti a giudaismo ok che cosa hanno fatto hanno voluto prendere l'identità dei veri figli di israele e questa lettera è così molto importante che hanno dovuto chiuderlo nel cambridge ok e non parlare e insegnare nulla di questa verità qui ecco vedete questo questi sono i testi come sono nel museo spero che siete stati edificati ho fatto questa lezione perché prima infatti parlavo con un fratello e si lo spirito così parlando con lui mi ha suggerito di fare questa lezione spero siete stati edificati se ci sono domande basta fare un commento e dalla forza di YAHWA BASHEM YAHWASHI vedremo di rispondere detto questo voglio dare tutti lodi al padre onnipotente YAHWA nel nome di suo figlio YAHWA YAHWA re salvatore rennetore e miei doppi onori agli apostoli e anziani della great milestone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità e saluti agli eletti della casa di Israele sparsi nei quattro lati della terra alla prossima Shalom